buongiorno benvenuti questa rassegna stampa di oggi lunedì 6 agosto nessuno va in vacanza ma cercherò di fare una diretta un po più breve la chiamerei in futuro zuppa prime o prime come volete voi insomma vorrei fare una zuppa soltanto sulle prime pagine perché ormai ho capito che i giornali sono andati in vacanza e spero di esserci anch'io tra poco in vacanza perché zuppa prime o perché zuppa prime per il semplice motivo che quando tu vedi 45 interviste ciao andrea è appena entrato andrea due andrea in diretta con noi adesso anna beh quando vedi 15 interviste sui giornali più o meno interessanti alcune totalmente inutili come quelle di cattane un uomo che c'ha 115 milioni guadagnati per aver venduto l'italo a una grande compagnia straniera insomma gli chiedi ma scusi lei che cosa ne pensa del tetto di 240 mila euro per i dirigenti della rai insomma che quale la disposta uno che c'ha 115 milioni guadagnati perché ha fatto il private il manager azionista di una società che cosa vuoi che ti risponda ma comunque nella inutilità di tutte le interviste di oggi qualche senso cercheremo di darlo la prima grande tema della giornata che non ha grandi spunti è quello della tav della tap perché i giornali godono molto ma ci sta questo avviene in tutti quanti i governi neocostituiti a trovare delle piccole frizioni o delle grandi frizioni all'interno di un governo quella che c'è evidentemente oggi fortissima è sulle grandi opere grazie al cielo diciamo che c'è una componente quella leghista che sulle grandi opere spero non faccia come ha fatto per quanto è successo per il decreto dignità cioè non molli di un colpo perché qui non è che si può ridiscutere il terzo valico non si può ridiscutere la tap non si possono rimettere in discussioni cose che non solo sono state discusse nel passato non solo sono state valutate nel passato sono state finanziate nel passato e hanno un grande senso per questo paese oggi lo spiega bene un'intervista rixi sottosegretario della lega alla toninelli cioè al ministro dei trasporti che invece vorrebbe rimettere in discussione tutto quanto un esame che lui fa per esempio molto interessante obiettando quello che il ministro del sud cioè la lezzi dice ragazzi non è che potete pensare che il traforo del monte bianco serva soltanto le 120 mila persone che stanno là o il terzo il valico la gronda valga per i 600 mila genovesi queste sono robe che valgono per tutta l'italia non è che la tap vale per i 4 milioni di pugliesi vale per 60 milioni di italiani che con il gas potrebbero avere un approccio molto più diciamo economico e diversificato queste sulle grandi opere dunque mi sembra che sia un tema secondo lance l'associazione nazionale dei costruttori ed ili e non solo sarebbero 21 i miliardi che sono in ballo per 270 opere e cantieri bloccati complimenti nel momento in cui mauro bussoni segretario generale della confe esercenti ci dice ragazzi attenzione perché se ad ottobre vi azzardate da aumentare l'iva ipotesi che faceva oggi repubblica e oggi viene dunque intervistato il segretario della confe esercenti qua andiamo in recessione per il semplice motivo molto banale che dall'estero come si è visto l'export va un po meno bene e i consumi eterni sono lì lì quindi se noi aumentiamo l'iva non vi inventate le minchiate sul lusso non lusso ma se vi toccate l'iva qua dice bussoni su un intervista repubblica finiamo male preoccupato per le pensioni è il quotidiano il giornale pensioni d'oro ladri di pensioni titola il giornale di sallusti una lettera di un pensionato d'oro così si definisce lui che ha lavorato 45 anni un dirigente industriale dice quando io mi sono sentito definire dal governo un parassita dopo aver lavorato per 45 anni ed avere la mia pensione beh insomma sono molto arrabbiato io capisco perfettamente la posizione del pensionato d'oro così come la capisce anche sallusti il vero punto è le cambieranno o no le tasseranno o no queste pensioni sopra i 4 mila o i 5 mila euro ancora non è dato sapere nel contratto di governo sopra i 5 mila è prevista un contributo di solidarietà per la componente non contributiva cioè per quello che tu non hai dato come contributi nel passato probabilmente dunque non riguarderà il signore che ha scritto il giornale se i 44 anni li ha lavorati davvero immagino che abbia pagato i contributi sbagliati milioni di euro di contributi che ora in qualche misura gli stanno restituendo ma comunque la posizione sulle pensioni d'oro oggi viene anche analizzata dalla Corriere della Sera con una bestia completamente diversa perché sarebbe stato cancellato il taglio a ottobre poi l'unica questione di cronaca che oggi vale la pena leggere è questo aereo di 79 anni che cade purtroppo muoiono 20 persone in Svizzera il pezzo forse più intelligente che mette insieme lo spioreologo e quell'altro che fa gli sport incredibili oppure questi signori che vanno in un aereo di 80 anni senza scatola nera la fa il libero in cui dice ragazzi cavolo però non vi mettete nelle condizioni di andare su un aereo di 80 anni io su una macchina di 80 anni già ci starai tranquillo ad andare su un'auto storica figuratevi voi se poi mi deve portare sopra e mi deve farla volare ciao rita molto interessante oggi perché i giornali continuano su questa minchiata clamorosa del dei dei tweet contro mattarella dimettiti quando ci fu il caso di savona vi ricorderete che lì ci fu una grande polemica contro contro mattarella insomma il pezzo migliore oggi di belpietro che dice ragazzi ma se noi criticare presidente della repubblica vuol dire diventare terroristi perché questa è l'ipotesi di accusa nei confronti di questi falsi account 330 che sarebbero stati creati prima si pensava dai russi poi si è visto che sono molto italiani poi si vuole arrivare leghisti poi si vuole arrivare al movimento 5 stelle va bene certo ci sono i troll su internet anche su questa pagina cioè persone che scrivono cose su porro e sulla zuppa di porro su mattarella si parvalice riguardo a porro rispetto a mattarella e non sono veri sono dei vigliacchi di merda che non insultano senza neanche mostrare il loro volto allora io li posso considerare dei vigliacchi di merda ma il fatto che ci sia un apparato statuale che li considera repubblica Corriere della Sera che ci fa polemiche per una settimana dicendo soprattutto che lì c'è un'ipotesi di terrorismo mi sembra un po' come sembra a belpietro una roba un po' eccessiva cosa facciamo di quei giornali che invece nei confronti di Cossiga nei confronti di Leone fecero vere e proprie campagne di stampa la cederna e non solo lei accusandoli di tutte le nefandezze che poi questi non non fecero andiamo sul campo delle interviste oggi ce ne sono a Iosa ve ne segnalo alcune l'intervista al ministro del turismo e dell'agricoltura centinaio la parte dell'agricoltura sul CETA dice non voglio fare l'accordo col Canada però però e qui forse si può scorgere una minima apertura su questa cosa che è assurda perché l'accordo col Canada riguarda il 90 per cento delle nostre DOP che finalmente vengono riconosciute dal Canada e soprattutto riguarda la possibilità nostra di poter esportare senza dazzi che erano anche del 400 per cento per nostri prodotti va bene? Porro facci vedere la tessera della Lega io non ho tessere mi spiace molto non le ho l'ultima tessera che ho avuto è moltissimi anni fa pensate un po' voi della gioventù liberale pensate un po' voi che follia beh Mario mi segue dall'estero spero altri pure dall'estero quindi il ministro dell'agricoltura dice sul CETA vediamo quali saranno i risultati mi sembra un atteggiamento più pragmatico che ideologico rispetto a un po' di tempo fa anche perché il CETA si accorgerà il ministro centinaio per l'industria italiana vuol dire molti più esportazioni nei confronti del Canada molti più quattrini e una bilancia commerciale sempre più positiva nei confronti di un territorio importante ma non si tratta degli Stati Uniti e poi l'altra questione importante che dice centinaio positiva non vogliamo i dazzi e questa è un'altra cosa sacrosanta dice però stiamo attenti perché se importiamo il riso della Cambogia vediamo che i criteri fitosanitari i criteri diciamo di pulizia di ambiente che questo riso che noi importiamo sono completamente diversi quelli italiani beh lo blocchiamo le barriere sono quindi sanitarie e questo gli Stati Uniti già lo fanno con noi immaginate per esempio l'esportazione dei prosciutti della peste di suina che c'è in alcune zone d'Italia che impediscono l'esportazione italiana e beh centinaio dice vediamo se la roba che noi importiamo non ha altrettanti vizi di tipo sanitario mi sembra molto più interessante rispetto ai dazzi la mia tessera della Lega io ho la tessera del supermercato dice Francesca ciao Francesca anch'io c'ho una tessera del supermercato dell'Esse Lunga intervista a Sala di Libero in cui il sindaco di Milano dice due errori sui sui profughi beh la prima è stata perché hanno la sinistra dice Sala deve smetterla di dire che l'immigrazione non dà problemi va bene mi spiace della che la diretta si interrompe sempre mi stupisco non tutti la pensano come te nel senso che alcuni forse in alcuni luoghi non si interrompe quanto si interrompe te ciao Federica quindi dice Sala l'immigrazione noi abbiamo la sinistra ha sempre detto che non c'erano problemi mentre in realtà insomma dobbiamo fare conti con la realtà perché l'immigrazione dà problemi però giustamente Senaldi direttore di Libero dice ma scusi Sala ma lei non è quello che organizzava le cene multietniche le grandi accoglienze e Sala in maniera paraculesca evidentemente Sala ha un'idea del suo futuro politico molto più ampia di quanto si possa immaginare noi oggi dice beh insomma io intanto non ho organizzato nulla ho aderito a manifestazioni che comunque non ho organizzato quindi ne ha preso un po' come possiamo dire le distanze ma io mi ricordo benissimo in prima fila in quelle manifestazioni colorate in cui ci spiegavano che l'accoglienza era fondamentale e chi non andava a quelle manifestazioni era un brutto di sinistra oggi dopo un po' di tempo Sala probabilmente ha cambiato idea me ne piaccio ovviamente. Del Debbio forse l'intervista più interessante di oggi la fa al Fatto Quotidiano ex ideologo di Forza Italia quello che nel 94 contribuì all'idea di Forza Italia perché poi non è certo un politico è un filosofo Paolo Del Debbio mio collega a Rete 4 che conosco da tanti anni beh insomma la sua intervista è molto interessante ed è anche piena di segnali uno su tutti quando dice che il problema oggi è tra Berlusconi e Salvini dice no 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 cari il problema non è tra Berlusconi e Salvini anzi Berlusconi vorrebbe mediare con Salvini il problema dice Del Debbio oggi un'intervista al Fatto Quotidiano è tra Tajani e Salvini Tajani tra l'altro lo dice Del Debbio in questa sua intervista è il classico euro burocrate la sua figura è dentro l'eurocrazia insomma una specie di schiaffone quello di Del Debbio alla nuova dirigenza di Forza Italia e qui dice certo che se loro pensano andare in campagna elettorale a parlare di Europa e di eurocrazia la vedo molto male per loro questo il tema di un'intervista molto bella realizzata a Del Debbio del tutto inutile e non riesco a capire il senso di questa intervista di un nuovo importante come Cattaneo ex direttore generale della RAI ex direttore ex amministratore delegato di Italo poi venduto agli americani ex direttore generale o amministratore delegato della Telecom insomma ne ha fatto di tutti i colori tant'è che un uomo ricco perché soltanto da Italo ha preso 115 milioni di euro 30 milioni mi sembra o 20 milioni da Telecom un uomo straricco insomma un'intervista in cui ci spiega questo è il titolo adesso ve le dico la RAI deve riprendere la sua credibilità ecco quando voi leggete questo titolo la RAI deve riprendere la sua credibilità che io leggo da 20 anni qualsiasi tipo di colore qualsiasi allora capisci che quell'intervista la prendete la stracciate e la buttate nel cestino la RAI deve riprendere la sua credibilità che cazzo vuol dire cosa vuol dire come gliela fai riprendere insomma andiamo avanti sulle questioni ridicole di giornata beh è la buongiorno che si fa intervistare il ministro pubblico amministrazione la donna che ha fatto del suo urletto ridicolo nei confronti della difesa di andreotti poi era andata con monti poi era andata con fini aveva quelle date il giornale nel periodo di fini però ricordo soltanto per capire che cos'è la buongiorno una persona che si trova a fare il ministro oggi devo dire che non sa veramente che pesci pigliare tant'è che licenziano per un grande sovrintendente che si fa un mazzo così alla reggia di caserta sei persone beccate in flagrante mentre non lavoravano per assenteismo lo licenziano il ministro dei beni culturali per la vecchia legge madia e quella che cosa dice sulla reggia di caserta andrò a fondo ecco questo è il tipico atteggiamento della buongiorno cioè quella di non fare nulla quella di fare soltanto interviste a beneficio dei giornali e quelle telefonatine come ha fatto con andreotti per assumersi i meriti che poi sono di altri come in quel caso era di coppi per la soluzione a metà di andreotti e come in questo caso del ministero semmai dei beni culturali e del grande straordinario provveditore di caserta insomma di amministratore di caserta sulla spiaggia sul tevere voglio concludere costa mille euro al giorno quella cagata di piaggia sul tevere chiunque conosca roma e conosca quella zona sa che è una roba che non ci andrebbero manco i sorci che sono di fatti presentissimi in quella spiaggia in questa spiaggia dei sorci secondo il tempo costa mille euro al giorno pagata da noi contribuenti mille euro al giorno ma la cosa più divertente la trova libero mi sembra o la verità ma penso libero e cioè che per utilizzare quella spiaggia il sindaco di roma ha fatto un accordo con zoro che non è quello che fa quell'incredibile e inutile trasmissione sulla 7 diciamo del politicamente corretto della sinistra pariolina ma è zorro è uno non zorro zorro è un il capo dei rom di quella zona che garantisce la sicurezza in quella zona detto ci penso io a garantire la sicurezza in quella spiaggia cioè l'accordo è stato fatto tra i rom e l'amministrazione comunale per la spiaggia come dice carolina in questo momento la spiaggia per i rom perché sono gli unici che ci andranno in quella spiaggia che è una fogna a cielo aperto maria andateci guardate la cosa incredibile mentre fa l'accordo con i rom mentre paghiamo noi contribuenti mille euro per questa inutile spiaggia però certo io sono iscritto la lega e odio quindi il momento 5 stelle andateci voi chiamate il momento 5 stelle andate in quella spiaggia pensate che ogni volta che ci andate mille euro sono pagati i contribuenti romani andateci cioè coloro che criticano le mie posizioni vadano per favore nella spiaggia sul tevere spiaggia sul tevere non è parigi è il tevere abbiamo ostia abbiamo fregene abbiamo maccarese no c'è la spiaggia sul tevere è fatta con gli accordi con i rom mentre la raggi fa l'accordo con i rom sul libero si fa intervistare a pagina intera e dice voglio sgomberare i campi rom e lì ci dovranno essere anche gli uomini dell'esercito brava raggi puoi dire tutto il contrario di tutto perché se è un accordo con zorro forse è difficile che l'accordo con zorro contenga anche il come si dice l'esercito nei suoi campi tra l'altro zorro indagato per recettazione perché si vendeva i posteggi di una zona che lui aveva occupato io la trovo stupenda bene intrepidante tese di un bel asteroide dice i nostri amici zuppa di quanto te scoppia il fegato ma non mi scoppio per niente guarda sono proprio tranquillo soprattutto quando vedo gente che riesce a dire parolacce come te volgari insomma è un cretino che ci scrive un deficiente è uno di quei trolle di cui parla pensate un cretino che mi insulta ora se io fossi mattarella ci manderei non so l'antiterrorismo io invece proprio i cretini come questi li tollero perché voglio dire fanno parte della vita e poi si denunciano per quello che sono vi do appuntamento domani vi ricordo come sempre di condividere se vi è piaciuta questa questa zuppa e vi do un compito a tutti quanti se siete a roma passate per la spiaggia di zorro manco i sorci ci potrebbero stare più di mezz'ora ciao